ciao da Alex Sonofri in questo video vedremo quattro punti più un piccolo bonus fondamentali per sedurre chi vuoi sedurre un ragazzo una ragazza un uomo una donna conquistare perché sedurre significa intrigare conquistare insomma più o meno sono cose simili e non è soltanto seduzione classica come sedurre per sbaciucchiarvi andare a letto insieme sposarvi eccetera ma come sedurre gli altri in generale allora qua faremo una cosa un po' diversa dal solito nel senso che io vi darò quattro elementi e mezzo un pochino scontati ok quindi ascoltatemi un attimo allora io so che la maggior parte di queste cose tutti voi e tutte voi le sapete però non è importante questo io adesso ve le ripeto giusto per insomma chiacchierare un po' tra noi anche se io chiacchiero e voi ascoltate va bene potete anche parlare mentre mi ascoltate però non c'è problema allora praticamente è questo il fatto che voi non dovete sapere queste cose perché probabilmente quando io le dico voi direte sì questa lo so questa lo so eccetera ma non è tanto questo è che voi dovete ricordare queste cose quando uscite di casa e quando volete incontrare qualcuno di interessante quindi ora io farò una piccola lista eccetera di cose che voi probabilmente già sapete ma che dimenticate quasi sempre cazzo quando uscite di casa e quando avete un'occasione di interazione di seduzione conquista eccetera io vedo sempre più spesso queste cose qua quindi ho detto va bene allora mi avete rotto le palle perché poi non siete abili a sedurre e poi io mi arrabbio e allora adesso vi faccio una lista proprio delle basi le basi quasi scontate che dovete ricordare di attuare quando uscite di casa quindi il vero metodo che ti sto dando adesso è questo quando tu esci di casa e sei di fronte ad una persona eccetera devi passare magari prima di quando arrivi di fronte alla persona devi passare rassegna mentalmente questi quattro punti che poi anche in mezzo insomma questi quattro punti ok devi farlo sempre allora il primo punto è io poi ti consiglio di ascoltarli tutti anche se adesso dirai capirai che cazzata questo lo sapevo anch'io ecco va bene come i musoli insomma va bene allora il primo punto è la pulizia beh dici cazzo alex lo so che quando esco di casa non devo puzzare di merda perché altrimenti che seduco il cani seduco neanche i cani allora praticamente che significa questo significa che quando esci di casa anche se tu credi magari di avere un buon profumo eccetera eccetera magari hai fatto quella sudatina e puzzi quindi devi lavarti lavati fai la doccia fai la doccia completa c'è chi si lava le ascelle chi si lava soltanto i capelli che quello cazzo va in doccia e lavati sciampati tutto praticamente o tutta e poi anche un'altra cosa lava i denti prima di uscire sembra una cazzata ma la gente dice io lavo i denti due volte al giorno prima di uscire la mattina e la sera prima di andare a letto sì non mi frega un cazzo quello che fai fatto sta che devi lavarti i denti prima di vedere una persona importante eccetera eccetera anche se l'hai lavati 96 volte perché se mangi le banane con i scafandri o roba simile o i carciofi poi hai di tutto in bocca quando parli spruzzi tutti i pezzi di roba e allora praticamente è inutile che ti lavi venti volte perché sento a me sulla vera insomma quindi capelli ok viso lava i denti e i vestiti anche devono essere puliti perché è capito sembra strano però ad esempio d'estate quando si suda si creano delle gore bianche sui vestiti come questo qua nero e praticamente anche se sono pulitissimi però voi avete sudato dieci minuti si asciuga il sudore e poi fa quelle gore lì dovete starci attenti ok le unghie le cose dovete andare in giro sempre puliti questa è una cosa fondamentale e altro elemento che io noto spesso che questa è una vostra tragedia soprattutto le donne che spesso non stanno a curare questa roba qui ma anche molti molti maschi dovete se utilizzate la vostra automobile dovete avere la macchina interna pulita i tappetini date una botta d'aspirapolvere un po di prodotti internamente senza sciogliere la roba in macchina da quanto spruzzate però cazzo vedo queste macchine che fanno sempre schifo le volete lavare internamente almeno fuori va bene un attimo che piove poi si crea tutta la lagora bianca perché piove la polvere piove chissà cosa però insomma la pulizia è fondamentale quindi quando state lì dice ho lavato passate il check fate il check capelli questo 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 occhi occhi vabbè insomma denti viso si vabbè insomma e vestiti queste cose qua le unghie le unghie a volte vedo cose assurde lo smalto scrostato vi siete tolti lo smalto rimangono le unghie gialle tutte ho capito come fai non lo so come fai questo vedi tu con la tua unghiera insomma però porca puttana insomma va in giro pulito e pulita ok senza andarci incontro io cerco di prenderti un pochino in giro perché praticamente io noto degli obrobri incredibili cioè cazzo allora primo punto pulizia quando esci di casa primo punto pulizia secondo punto ordine ordine che significa a me non me ne frega un cazzo se tu hai capelli puliti se sei tutta pulita e poi praticamente hai tutta la barba incolta tutta strana così tutti ciuffi in giro tutto storto hai non lo so i vestiti tutti sgualciti tutti strani macchina c'è di tutto sembra che esploso un cassetto di biancheria o chissà cosa cavolo devi essere ordinato ok l'ordine l'ordine delle cose se inviti qualcuna a casa che ci sia ordine non solo pulizia ok ordine oppure se c'è un disordine fai capire che è un disordine è ordinato sia che è una cosa per qualche motivo c'è comunque devi essere ordinato cioè se no chiudi le stanza chiave e non farle vedere ok questa è una cosa fondamentale essere ordinati qui e mi ero segnato una cosa da dirvi che adesso sì va bene anche sì una cosa che tendevo a dimenticarmi c'è anche la scelta dei colori non potete andare in giro vestiti con un pezzo rosa un pezzo bianco un pezzo blu un pezzo cioè non siete arlecchino cioè ordinate anche colori magari degli abbinamenti cercate in internet come abbinare i colori come fare qui con cioè io faccio prima che mi vesto quasi soltanto jeans bianco nero eccetera quindi insomma io faccio faccio molto presto comunque ricordatevi quando uscite di casa uno allora pulizia sono pulito tatatata la macchina la casa si anche la casa deve essere pulita ovviamente quando invitate qualcuno e sembra scontato ma non lo è poi ordine sono ordinato i capelli così c'è se poi avete i capelli un pochino straniti siete un po straniti eccetera eccetera magari potrebbe essere il vostro personaggio come io sempre ci uff in giro eccetera però questo fa parte un po del mio personaggio un po sono un po così arroganti capelli un po irriverenti poi terzo terzo allora intanto vedi che questi punti vanno in ordine di grandezza di importanza e i primi sono più scontati mano a mano che si va giù sono meno scontati allora il terzo è salute che significa salute non che dovete evitare di avere raffreddore ma che dovete dimostrare di essere persone che hanno salute quindi non fate come me che ha sempre un po di occhiaie però io insomma perché ripeto come ripeto spesso preferisco avere magari un pochetto d'occhiaie che poi se faccio così si vedono un pochino meno no vero ecco che magari star sempre lì con prodotti oppure dormire quelle tre ore in più al giorno che mi rendono meno prodotti o proprio di questo dipende dalle priorità però se la vostra priorità è sedurre farvi vedere cercate di dormire riposarvi insomma truccarvi bene se siete donne insomma uomini se volete truccare va bene insomma per far vedere la salute ok anche la cura dei capelli del viso del colorito non andate in giro tutti bianchi o tutti che siete sempre bruciati quelli che stanno fanno lavori sempre al sole eccetera magari mettete delle protezioni eccetera c'è la salute importante perché una cosa evolutiva e nessuno tende a ricordarsela questa cosa ok ma cosa significa anche salute salute significa e questa è una cosa forse che è meno scontata è quando voi andate in giro se fate vedere che siete sempre moji moji o iperattivi magari contenti c'è una festa sono contento sembra che non ci andate mai ad una festa oppure sempre un po lì un po in disparte tutte queste cose qui e praticamente succede che la persona che sta di fronte a voi pensa che voi non siate in salute quindi depressione ansia iperattività essere uno che è sempre così che non sa stare tra la gente mostra di non essere una persona salutare che sta in salute ok poi ovviamente curate la vostra salute se avete che ti posso dire un neogrosso qui qua fatevelo togliere se avete che ti posso dire un eccessiva sudorazione fate qualcosa magari mettete magliette più fine insomma vedete voi però dovete mostrare di essere in salute delle persone regolari nella propria vita non solo salute di salute nel senso stretto però anche salute mentale la salute interiore mentale carattere eccetera ed esteriore ok cioè fate vedere se le persone in salute non quelle che dice no ma io l'acqua non la bevo e no ma io bevo solo quello quello mi fa male quell'altro mi fa male devo andare a prendere l'aspirina oddio e tutte queste cose qua il freddo è freddo il caldo è caldo avete rotto le palle fate vedere che avete un minimo di sopportazione nel senso che questo fa vedere se le persone abili utili e anche alla riproduzione eccetera quindi in salute è una cosa molto importante ok poi il quarto punto se mi conoscete già lo conosce già già sapete che questo ci batto spesso i pennarelli fan sempre schifo allora il quarto punto ancora meno scontato è la personalità che significa non solo che dovete avere personalità il carattere sì questo va bene ma soprattutto infatti questo qua andrebbe sottolineato un pochetto per personalità intendo che dovete in pratica mostrare di avere del almeno un qualcosa che vi personalizzi ciò che vi distingua vi differenzi dagli altri e per questo cosa intendo intendo vedete che io ho sempre un po' ciuffi però poi madre natura o chi insomma la mia genetica mi era fatta un po' brizzolati così che sembra quasi che mi ha fatti il parrucchiere roba simile invece sono naturali poi ho fatto il pizzetto così che mi dicono ma chi sei tony stark o ma questo che è un wall we ring con queste cose ova tu e tutte queste cazzate qua ok va bene però intanto mentre mi dice guarda quello come ha visto mi ha messo questa cosa chiesti intanto sta pensando a me magari mi differenzio dagli altri faccio vedere che ho una mia personalità una mia personalità ossia una personalità diversa dagli altri e questo può creare intrigo questo può creare e fare creare un po' di fascino eccetera cioè come diceva Vasco Rossi un particolare solo per farti notare cioè vabbè adesso non ti devi far notare se no ti fai uno squarcio qua e ti notano tutti però un particolare per farti differenziare ecco almeno un particolare cos'è che ti differenzia la personalità nel senso il carattere che poi devi utilizzare devi porti verso gli altri magari un modo di vestire che non ti deve personalizzare perché fai schifo ti vesti come un rom o roba simile ecco quindi un qualcosa che ti differenzi perché sennò se tu fai solo queste queste tre cose queste tre cose le può fare anche una suora le può fare anche un prete anche un uno tutto handicappato tutto strano ok tutto handicappato a livello diciamo relazionale interattivo la personalità è quella cosa che ti differenzia e quindi quando fai questi tre punti il quarto punto deve essere un elemento aggiuntivo che devi inserire è molto importante poi adesso andiamo al bonus che vediamo che andrà a collegare tutti però quello che voglio dirti è che se tu utilizzi tutte le tecniche anche degli altri miei video degli altri miei canali no canali insomma degli altri miei video degli altri anche in facebook pubblico insomma tutte queste cose qua vedrai che se tu non hai però questi quattro elementi sarà tutto inutile è inutile che uno è simpatico e bravo e persuasivo conosce quello l'altro sopra sotto un miliardo di elementi a strong se non ha pulizia ordine salute personalità cioè non vali niente è per questo che ho voluto fare questo video anche se magari è un pochino diciamo così scontato che poi se tu lo guardi bene prendi un foglio prendi appunti vedrai che sono tanti elementi reali che puoi scrivere e molti non sono assolutamente scontati soprattutto vedi che andando avanti c'è sempre una freccia più potente perché sono cose ancora meno scontati il bonus allora prima di dirti il bonus come dico sempre così però magari vabbè lo devo ripetere ricorda di mettere un like se ti è piaciuto questo video e di iscriverti al canale se non lo hai fatto di chiedermi nei commenti tutte le cose e di aggiungermi su facebook perché perché molto importante far crescere il canale con queste cose sia per me che faccio vedo crescere il mio canale ma sia anche per voi perché se io vedo che il canale vale la pena e diciamo così dedicarci tempo spazio eccetera poi farò più video più lunghi più approfonditi con anche cose che adesso vedremo a breve ok allora qual è il quindi ti sei ricordato di mettere il like ed iscriverti quindi il bonus qual è il bonus è che dovresti evitare quello che io chiamo la sindrome di batman che di giorno sei una persona e di notte sei tutto mascherato in modo diverso ok allora devi evitare di far passare dei giorni in cui sembri un rom che sono tre mesi che non esce dal suo accampamento ok quindi tutti questi elementi e anche altri degli altri video però questi sono quelli fondamentali tu dovresti averli al 70 per cento cioè due terzi di questi elementi tutti i fattori che ti ho dato dovresti averli fissi sempre anche quando vai a fare spesa anche se vai dal macellaio dieci minuti a prendere un rotolino di carne anche se va in edicola a prendere il giornale o il biglietto per l'autobus il treno da qualche parte tra tra tre secondi devi avere sempre una base almeno del 70 per cento cioè di due terzi circa due cose su tre quindi di queste sempre fissi quindi magari la barba te la sistemi la mattina i capelli te li sistemi la mattina ogni mattina fai la doccia prima di uscire controlli sempre il trucco se sei una donna se è maschio si trucca l'abbigliamento le cose questo cioè crea un sistema di vita in cui per la maggior parte delle cose almeno due su tre due di questi elementi qua sempre fissi sono e saranno e siano insomma così adesso il tempo verbale mi verrà perché questo perché altrimenti c'è la sindrome di batman che se uno ti fa un imboscata a casa faccio faccio solo per farti capire tu sei tutto che sembri veramente non si capisce cioè come dico un rom che sono tre mesi che non esce da dal proprio dalla propria roulotte camper eccetera cioè fai schifo quindi che succede che poi quando c'è una festa o qualcosa tu non sei a tuo agio con la tua personalità con la tua salute con le tue cose estetiche eccetera eccetera e la gente questo lo nota cioè se tu fai i capelli soltanto prima di una festa o di un matrimonio di tuo cugino di tuo zio di tuo nonno che succede che poi arrivi con i solchi bianchi qua o qua o quello che è e quindi e questo vale anche per le donne se la ricrescita ti arriva qua giù e praticamente invece quando sei al matrimonio sei tutta lampante dice ma questa laga fatto batman che quando c'è un qualcosa si maschera ok quindi devi sempre avere questi elementi almeno per due terzi fissi e questo ti comporta anche che sei sempre ad un livello migliore perché perché sei abituato abituata a queste cose ok allora in questo video dato che sono sempre bravo a dire almeno le cose di base non ho fatto errori perché quando faccio errore perché voglio dire troppe cose troppa roba poi penso a quello a mio zio ha fatto quella cosa insomma e va bene quindi per alec ed alex sonofri per questo video è tutto metti il like iscriviti al canale seguimi facebook e non lo so se c'è 100 mila euro che ti avanzano mandameli come donazione poi ti darò i dati tanto 100 mila euro in più fan sempre comodo e ciao da alex sonofri al prossimo video